domani si gioca gara 5 di semifinale pre off scudetto la notizia del giorno però la convocazione in nazionale maggiore di tiziano mazzone complimenti tiziano penso che sia un traguardo intermedio importante per te sì innanzitutto grazie mille anche a tutte le persone che mi hanno fatto i complimenti oggi mi hanno scritto per messaggio sicuramente è un grandissimo motivo d'orgoglio è un coronamento del lavoro che sto facendo in palestra e cercherò di sfruttarlo al meglio anche perché durante questa stagione sovente sei entrato in campo hai detto anche la tua è fatto molto bene insomma e blengini diciamo non poteva non accorgersi di te ma secondo me un po tutti con entriamo diamo diamo il meglio di noi stessi e devo ammettere che è stata una cosa un po inaspettata perché comunque insomma non è che uno si sveglia la mattina perché non mi convoca la nazionale senior è sempre stato un sogno per carità non dico non dico il contrario ma appunto ecco non me l'aspettavo questa mattina mi sono svegliato con il sorriso world league 2017 sei nella lista dei 21 assieme ad altri sei compagni di club anche da questo punto di vista non ti sentirei solo anzi è una bella garanzia per continuare a fare un buon lavoro di gruppo ma sicuramente anche perché questo molto bene con i miei compagni ritrovarne molti anche in nazionale una bellissima cosa per me sicuramente mi aiuterà tanto anche sotto il profilo sai della dell'ambientazione insomma sarà sarà importante spero che sarà divertente anzi lo sarà sicuramente prima della nazionale però c'è un percorso nel playoff da chiudere nel miglior modo possibile domani si gioca gara 5 con perugia cosa hanno detto le prime quattro gare le prime quattro gara hanno detto che tutte e due le squadre possono vincere sia noi che loro nell'ultima gara secondo me loro sono stati più bravi di noi assolutamente non c'è nient'altro da dire però insomma noi adesso siamo qui siamo a trento abbiamo voglia di andare avanti nella serie vogliamo raggiungere al finale faremo di tutto però appunto c'è il fattore pala trento da conservare vi aiuta molto sì è vero che noi dobbiamo cercare di vincere anche fuori casa perché anche perché se mai dovessimo arrivare in finale l'importante sarà vincere fuori casa anche perché macerata questo vantaggio però sicuramente nostro la nostra città il nostro palazzetto ci aiuta moltissimo grazie a tutti grazie a tutti